La mostra itinerante e l'emancipazione femminile vista attraverso i giochi olimpici farà tappa anche ad Arezzo dal 30 marzo al 1 aprile, nella sede del quartiere Porta Santo Spirito. Una rassegna fotografica e descrittiva che ripercorre l'emancipazione e l'evoluzione della figura femminile, misurata con un termometro tutto speciale, quello delle Olimpiadi. L'evoluzione dell'emancipazione femminile attraverso i giochi olimpici è la dimostrazione di come il mondo si è evoluto, quindi è veramente una cosa storica, importante, fatta di immagini e di descrizioni. Avrà un evento conclusivo con la presenza in una conviviale che si terrà venerdì alle ore 20 e 15 allo Terminerva, vedrà la presenza di Martina Grimaldi che è un atleta importante delle Fiamme Oro e che è campionessa olimpica, campionessa mondiale e campionessa europea a più volte nella 10-25 km di nuoto. Io credo che sia un momento particolare in cui qualche volta si mette in dubbio nel contesto il ruolo che hanno le donne e dare un segnale per cui la donna anche attraverso lo sport che potrebbe apparire così ideologicamente come un messaggio prettamente maschile può ottenere certi risultati e avere successo e questo è una conquista della donna all'interno di un contesto sociale. E una conquista anche del mondo? Direi di sì, io personalmente sono convinto che infatti le atlete sono di tutte le razze, di tutte le religioni e anzi questo accomuna un po' il simbolo della donna nel contesto della società moderna.